servono per ingrandire oggetti molto piccoli hanno ingrandimento 10 volte o 12 volte 10x12x si posizionano sull'occhio in questo modo e si va a vedere qualcosa di molto piccolo in particolare andiamo a vedere un piccolo disegno su una mappa purtroppo la luce non è delle migliori ma riusciamo a vedere i particolari molto molto dettagliati questo era il 12 ingrandimenti e ora proviamo la differenza con il 10 ingrandimenti può servire per vedere dei particolari sia sulla carta stampata che di oggetti molto piccoli ad esempio orologi, miniature, bijoux io vi saluto vi rimondo al sito elettronicadidattica.com per oculare e lenti di ingrandimento per tutte le esigenze ciao a tutti a presto